Ciao amici di Video Classifica Show, ciao e bentornati da oggi. Questa settimana grandi novità, grandi novità perché abbiamo dei nuovi video, nuovi artisti ci hanno segnalato i nuovi canzoni e piace sempre di più questo piccolo programma. Partiamo subito, dai che si va alla posizione numero 10, troviamo Rocky Balboa, un bel male di Genio e Pierrot per voi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie.